benissimo vediamo se parte tutto se l'audio si sente datemi qualche feedback magari nel frattempo credo che la qualità sia discretamente decente vediamo se per caso ho cannato qualcosa no direi che dovrebbe funzionare così a naso dovrebbe andare allora bene mi confermano dalla regia qua nei commenti che si sente ottimo allora stasera live un po' diversa dal solito più di racconto ok perché in queste ultime settimane è stato veramente un delirio ho avuto giornate di 86 ore la gran parte dovute alla necessità di rispondere gestire questionare su materia dell'emergenza urgenza perché sapete bene che è la cosa che ultimamente pare via più più questioni in particolare i problemi a cui di cui mi sono occupato sono partiti dalla necessità di iniziare ad applicare le intese regionali che organizzazioni sindacali della medicina generale tutte e regione Emilia Romagna hanno inserito per avviare un processo di riorganizzazione e soprattutto di supporto ai servizi di emergenza ora cosa succede che ci sono diverse diverse problematiche nell'emergenza urgenza che derivano non tanto dalla carenza di personale in senso stretto ma dal motivo per cui il personale se ne va perché il vero problema che molte persone compresi molti dirigenti non riescono a capire è che il trend da risolvere è fare in modo che il personale non voglia più scappare dai servizi di emergenza e ovviamente per fare questo bisogna interrogarsi sui motivi che hanno portato e che portano tuttora il personale ad andarsene e ovviamente il motivo non è solo uno sono più fattori alcuni che dipendono dai contratti alcuni che dipendono dal lavoro in sé che è stressante e che è sovraccarico alcuni sono motivi storici che hanno portato i servizi ad essere organizzati in questo modo e alcuni sono anche motivi di relazione interumana perché ci sono anche una serie di problemi estremamente critici in questo momento con alcune direzioni e i professionisti dipendenti e convenzionati indifferentemente li abbiamo letti anche sui giornali quando i colleghi che hanno lasciato l'SSN li hanno esplicitati questi problemi sono venuti molto chiaramente alla ribalta senza però destare come dire il sufficiente interrogativo nei vertici ok e sulla scelta soprattutto di determinati dirigenti perché guarda caso se poi andiamo nel dettaglio ci sono posti dove ci sono certi dirigenti dove i problemi di carenza non ci sono sono estremamente limitati e poi invece ci sono posti nei quali il problema è totalmente diverso quindi leggo qua in un commento che mi dice di umano nella gestione dei rapporti psmt c'è poco o nulla assolutamente assolutamente sì e adesso veniamo al punto ora questo è un discorso enorme perché sta generando e ci sono fomentatori soprattutto tra alcuni dei dirigenti in servizio fomentatori anche degli specializzandi che hanno scelto quei pochi specializzandi che hanno scelto la impervia carriera della medicina di emergenza quindi onore al merito per loro che l'hanno scelta ma attenzione io cercherò in questa sera di dare un chiaro quadro normativo per non leggere più delle note dei commenti delle lettere che contengono delle gravi inesattezze che derivano dalla narrazione che a questi colleghi purtroppo è stata fatta e quindi io vorrei sgombrare il campo ovviamente l'interesse di tutti dovrebbe essere quello di fare l'interesse del sistema e non solo l'interesse della parte le parti tutte hanno ovviamente la necessità di fare in modo che il rispetto delle proprie prerogative dei propri interessi coincida in larga parte con una visione complessiva e con una ingegnerizzazione del sistema che produca il risultato migliore per tutto il sistema nel suo complesso e quindi in ultimo per i cittadini che dei servizi di emergenza devono come dire giovare quando ne hanno bisogno purtroppo di solito nei momenti peggiori della vita di ciascuno di noi ora qual è il tema e qual è il punto cruciale che purtroppo negli ultimi 22 anni forse qualche cosa di più la voglia di modificare l'assetto e la prospettiva dell'emergenza urgenza non è però andata di pari passo con le normative nazionali con l'organizzazione dei servizi e si sono cercati appunto di fare le pentole ma non i coperchi e ovviamente questo dopo 20 anni purtroppo la paghi e vengo nel dettaglio 20 anni fa 22 anni fa l'idea del contratto dell'emergenza che nasceva nel 1992 quindi 30 anni fa non due giorni fa 30 anni fa l'emergenza urgenza era divisa in ospedale le strutture di pronto soccorso erano delle strutture dove quasi non c'era nemmeno un medico dedicato giravano i medici di tutto di tutti i servizi chirurghi internisti pediatri radiologi giravano di tutto e principalmente erano poi chirurghi quelli che gestivano almeno poi dipende da zona a zona d'Italia ma cambiavano molti punti io ricordo i colleghi che dicevano di com'erano organizzati i servizi prima ancora che venisse istituita la disciplina che noi oggi conosciamo come medicina e chirurgia accettate in urgenza quindi diciamo la gente veniva a fare un turno in pronto soccorso come rifugio peccatorum o addirittura come punizione da determinati reparti questo è quello che mi hanno raccontato io ovviamente non c'ero non lavoravo è un po' la memoria storica di tutti quelli che mi hanno descritto com'erano i servizi e ci furono giustamente all'epoca poi tutta una serie di movimenti per arrivare alla definizione delle discipline e tra queste discipline creare anche quella di medicina e chirurgia accettazione ed urgenza che guarda caso aveva proprio le 42 equipollenze e affinità che oggi leggiamo forse sono diventate 43 addirittura perché? perché ci lavorava di tutto e quindi non potevi escludere di fatto nessuno e quindi tutti potevano andare a finire lì per fare il turno parallelamente il 118 invece era una cosa molto diversa il 118 ha una finalità che è diversa da quella del pronto soccorso mentre il pronto soccorso gestisce il 90% di urgenza e un 10% di emergenza dico dei numeri a caso ma per dare una proporzione il 118 invece che funzione ha? sicuramente di trasportare in sicurezza poi anche questo è cambiato negli anni i pazienti verso il pronto soccorso ma la definizione di intercettare la vera emergenza il paziente è realmente critico cercare di stabilizzarlo cercare di identificare il più possibile la criticità prevalente e se è sensibile di un percorso definito come quello che c'è stato per l'infarto per lo stroke per il politrauma di definire dei percorsi che massimizzino appunto l'emergenza quindi quella problematica che mette a rischio la vita la mette a rischio in pochissimo tempo e che deve essere riconosciuta e trattata nel più breve tempo possibile una finalità diversa all'epoca però c'erano anche tutta una serie di questioni sociali per cui il 118 essendo nel territorio veniva inserito in una via diversa da quella degli ospedali nei livelli essenziali di assistenza della Repubblica Italiana ci sono queste due che sono ancora adesso così i livelli di assistenza ospedalieri e i livelli di assistenza distrettuali cioè del territorio il pronto soccorso finisce nell'ospedaliero la territoriale finisce appunto nella distrettuale nel territorio e quindi i contratti di lavoro che si definiscono indipendentemente dalle questioni formative che sappiamo erano 42 discipline no? ci andava un po' di tutto nel 118 si tendono a tenere o anestesisti rianimatori e medici dell'emergenza sanitaria territoriale che vengono creati tramite corsi di formazione ad hoc ovviamente immaginate l'epoca erano pionieristica come cosa quindi si prendevano medici generalisti che venivano formati specificatamente con corsi tipicamente gestiti dai rianimatori che insegnavano tutta una serie di cose e si è creato un sistema virtuoso che ha sviluppato questi due questi due punti poi che cosa accade? che i medici dell'epoca che erano convenzionati e c'era la pletora medica quindi erano in tanti c'erano tutta una serie di questioni molto grosse poi all'epoca per fare il concorso cioè tu facevi il concorso c'erano 3000 persone che facevano il concorso in ospedale per cui c'erano delle differenze rispetto al mondo di oggi che erano assolutamente agli antipodi cosa accade? che questi medici volevano e vedevano nel contratto di lavoro dipendente il soldo dell'avvenire perché? per una serie di motivi oggettivi una serie di questioni retributive le differenze di stipendio erano enormi e sono enormi tra la convenzione e la dipendenza c'erano una serie di differenze sui trattamenti sulle tutele su tutta una serie di cose e quindi dopo lunghe gestioni questioni trattative che secondo me non sono state lungimiranti però legittime e assolutamente corrette si arriva a dire in 1997 1997 scusate mi è partito si vede il segnale audio non so cosa sia accaduto forse si è spento qualcosa va bene comunque mi dovreste sentire adesso spero mi sentiate allora cosa succede che praticamente parte il ecco ok adesso è ripartito benissimo quindi praticamente quello che accade è che il personale viene passato alla dipendenza tramite una procedura concorsuale e viene assunto ok quindi dal 2000 viene fuori questa cosa la regione Emilia-Romagna tra le varie è una regione che questa cosa la fa decide nel 2000 che si deve passare l'emergenza territoriale alla dipendenza e la legge di quell'epoca siccome tra l'altro per lavorare in ospedale nei decenni precedenti non c'era l'obbligo di essere specialisti per fare il concorso siccome questa cosa non c'era non era un obbligo non era un problema e non era necessario appunto avere la dipendenza che cosa accade che praticamente ovviamente tutti questi medici vengono assunti e vengono assunti per rimanere a fare di fatto il lavoro che stavano facendo integrando integrando quindi aggiungendo anche compiti propri dell'assistenza ospedaliera che era tecnicamente distinta nel frattempo però si era inserito l'obbligo della specializzazione per fare l'assistenza ospedaliera e quindi questa cosa ovviamente è rimasta divaricata perché dicono ah se stai in ospedale ci vuole la specializzazione per fare il concorso da quel momento in poi dal 98 mi sembra di ricordare e quindi insomma di questi mondi si vive un po' di giorno in giorno se leggiamo per esempio nella mia regione quello che è accaduto vediamo che già dal 2001 c'erano dei problemi perché poi ovviamente come al solito le pentole non i coperchi che è il tema di questo video cioè quando si comincia a discutere del passaggio alla dipendenza si dice quelli che hanno 5 anni di lavoro a tempo indeterminato quindi quelli che ne avevano 4 quelli che ne avevano 3 e avevano perso il requisito a quella data non potevano più accedere quindi anche lì rimasero pochissimi pochissimi mette che non passano alla dipendenza poi andavano a fare altro e però dal 2001 cosa succede che praticamente quando le regioni prendono questa decisione decidono ok non applico più il contratto di lavoro convenzionato d'ora in poi assumo solo dipendenti però scrissero anche se non trovo dei dipendenti perché ovviamente il lavoro di questo tipo di area qui è complesso e ovviamente cosa accadeva che tu volevi assumere dipendenti non c'erano gli specialisti meo assumevi geriatri assumevi internisti assumevi gastroenterologi assumevi chirurghi non potevi assumere gli anestesisti rianimatori perché non facevano il PS laddove le regioni avevano deciso che dovevano fondere in questa visione che io francamente condivido fino a un certo punto del medico unico che doveva essere un otrino sapere fare tutto dove decidono di fare questa cosa ovviamente che cosa possono assumere gastroenterologi internisti geriatri chirurghi generali non il chirurgo toracico per esempio insomma sono tutte quelle 42 sberle di discipline equipollenti a fine tranne ovviamente gli anestesisti rianimatori gli anestesisti rianimatori quelli che erano ovviamente quelli che avevano formato e che avevano il know-how sulla gestione dell'emergenza quelli no perché solo nelle realtà dove il 118 era dato legato alla rianimazione come per esempio Bologna città tanto per intenderci avevano la possibilità di rimanere nel 118 dalle altre parti dove si voleva fondere il servizio col pronto soccorso tu ti riempivi di internisti geriatri gastroenterologi che attenzione erano bravissimi colleghi che facevano il concorso tipicamente avevano una formazione di tipo ospedaliero e non avevano a quel punto il corso di donità all'emergenza territoriale dovevano fare un affiancamento iniziato durante il lavoro quindi anche qui si comincia a creare un disagio per le questioni legate alla formazione di accesso ai tipi di compiti che si vanno a fare ovviamente anche a quello schifoso doppio mandato contemporaneo doppio incarico contemporaneo in cui si fanno nello stesso turno di lavoro attività di pronto soccorso attività di 118 che crea un sovraccarico uno stress un problema enorme che tutti quelli che l'hanno vissuto me compreso hanno lamentato o quasi tutti o la gran parte delle persone il 90% 99 forse e che ha reso già questo ingranaggio problematico perché poi ovviamente quando tu vai a parlare di dipendenza pubblica e vai a parlare di medici dipendenti vai a parlare di spesa pubblica tetti di spesa per il personale e quindi mentre le convenzioni erano più flessibili perché si basavano su quante ore devo coprire e pago beni e servizi non pago personale pago ore di lavoro che è una cosa attenzione diversa a un certo punto cosa è successo che via via si sono andati contraendo gli organici del personale quindi mano a mano che i volumi di accesso dei pazienti ai servizi di emergenza nel tempo crescevano lo vediamo dai grafici che vengono perennemente proiettati mano a mano quei volumi crescevano ovviamente il personale si contraeva e magari veniva anche chiamato a fare queste cose in contemporanea fino ad arrivare a dei modelli folli e io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare mi costringevano ad andare di notte in medicina d'urgenza mentre erano in ambulanza a mollare le robe vabbè tralasciamo e quindi tutto questo ha creato un ambiente insostenibile in cui coloro che avevano fatto il passaggio alla dipendenza per rimanere medici 118 e si trovarono catapultati anche a far dell'altro qualcuno gli andò bene e tanti poi telarono quindi questo passaggio alla dipendenza non fu proprio questa grande conquista della cosa però al di là di quello quindi cosa accade che poi nasce la scuola di medicina d'emergenza d'urgenza nel 2009 50 posti in tutta Italia in quell'anno lì e si va avanti per tantissimi anni fino all'anno scorso due anni fa in cui se ne pubblicano una sbandierata e una quantità infinita ovviamente a questi colleghi in alcuni punti viene raccontato anche che loro potranno fare tutto cosa che è possibile ovviamente è assolutamente possibile ed è possibile ovunque cioè chi fa lo specialista in emergenza urgenza può fare tutto attività ospedaliera attività territoriale senza limiti ovviamente però quello che non viene raccontato è che dal 1992 dal 1992 96 poi con tutti i decreti del Presidente della Repubblica successivi gli accordi della conferenza Stato-Regioni successivi e con tutti questi atti ovviamente viene mantenuto però l'indicazione sia per motivi organizzativi sia per motivi di costi che le convenzioni nazionali rimanessero attive e ovviamente ci sono mobilità infortuni malattie cioè tutta una serie di gestioni riguardo la convenzione e quindi è ovvio che in teoria il medico convenzionato che ha un percorso di formazione diverso che dovrebbe essere impiegato sostanzialmente solo nell'extra ospedaliero poi purtroppo ci sono state una serie di questioni appunto di utilizzo anche oltre quei limiti lì però in teoria il medico convenzionato dovrebbe fare quella parte lì territoriale non dovrebbe sconfinare se non collaborando nei momenti liberi all'interno dell'attività ospedaliera e quindi cosa succede che nel momento in cui questi medici invece convenzionati sono stati per anni costretti a svolgere di fatto l'attività ospedaliera però senza possibilità di carriera senza avere riconoscimenti economici spesso senza avere tutte le coperture eccetera eccetera per anni anni e anni con la promessa a molti di questi che si fecero in qualche modo infinocchiare con la promessa che dopo 5 anni sarebbero stati assunti cosa che non è mai avvenuta negli ultimi appunto i primi colleghi che hanno fatto questa cosa erano 2001 2002 hanno cominciato a lavorare siamo nel 2022 quindi questi hanno lavorato per 20 anni dopo che li avevano tra virgolette accalapiati nel servizio raccontandogli che sarebbero stati assunti nel frattempo hanno passato 20 anni e nessuno ovviamente gli ha dato le differenze di retribuzione tra il lavoro che hanno fatto pagati da convenzionato rispetto al pagamento che avrebbero avuto la dipendente per cui una serie di promesse tradite aspettative bruciate molti di questi medici poi negli anni hanno maturato la consapevolezza che determinati modelli organizzativi non erano sostenibili e quindi sono andati a fare dell'altro sono andati a fare dell'altro oppure hanno deciso di rimanere ma di fare il loro lavoro legittimamente peraltro senza nessun problema e qui oggi nasce il caos nasce il caos perché laddove si è tra virgolette stuprato quello che era il modello originale dove i medici del 118 sono legati alle centrali operative 118 e fanno parte del pool del 118 e operano nei territori hub nelle postazioni ad alto volume nelle postazioni a basso volume in una rete però sempre omogenea 118 su 118 pur collaborando con le strutture ospedaliere in tutte quelle realtà in cui questo non è stato e invece il personale medico è stato staccato dal 118 inserito nelle logiche di organizzazione di pronto soccorso quindi in una logica di organizzazione ospedaliere a cui questi medici non appartengono e lì si sono creati casini perché tu metti persone con contratti diversi a fare fondamentalmente la stessa cosa con pagamenti diversi ferie diverse una serie di roba che non possono reggere più di tanto e ovviamente quando poi mi dicono ah ma prima o poi magari la legge cambierà allora fino adesso fino all'altro giorno avete visto le elezioni c'era un governo di un'altra corrente che era la corrente che era più allineata con la maggior parte delle regioni che hanno fatto questo tipo di gestione negli anni ma non è che hanno deciso poi di fare tutti gli aggiornamenti normativi che dovevano fare per cui alla fine questa gente è rimasta così ma adesso non entro nel merito ma ci sono una serie di problemi anche tecnici giuridici ci sono una serie di problemi infiniti su questa roba qua quindi l'unico modo è ristabilire come dire i propri percorsi fare in modo che uno che ha studiato e preso un titolo per fare A faccia A e poi se vuole se ha tempo formazione e crede di riuscirlo a fare e gli si danno tutti gli strumenti per farlo possa fare anche B ma nel rispetto e nella consapevolezza che B oggi la fanno un po' tutti ma l'idea domani è che la faccia poi lo specialista di branca che nel frattempo si sta facendo la scuola di specializzazione scuola di specializzazione in cui legalmente legalmente li avete letti tutti i bandi il medico convenzionato non può partecipare in particolare in esplicito nei bandi c'è scritto che il medico di emergenza sanitaria territoriale è escluso totalmente dalla possibilità di partecipare alla scuola di specializzazione quindi indipendentemente dal fatto che voglia fare una scuola di specializzazione in medicina in emergenza o in altro non la può fare personalmente io infatti mi sono divertito con una collega l'anno scorso a depositare un ricorso ho detto ma scusa questa io voglio proprio che arrivi a giudizio finale io voglio il giudizio su questa roba qua perché farmi prendere per il culo continuamente da tutta una serie di fregnacce raccontate dai vari dirigenti per anni che hanno raggirato tutti fondamentalmente con questa narrazione che diceva che no che però si poteva che si doveva allora ho detto va bene io vado a fare il concorso vinco il concorso mi metto in una posizione utile faccio domande mi iscrivo a una scuola di specializzazione ragazzi io ho anche il tempo tecnicamente per come è organizzata la convenzione di farla posso anche frequentare e quindi abbiamo strutturato un ricorso chiedendo di valutare questa cosa e di essere ammessi e il tar Lazio ha detto no perché era una motivazione assolutamente come dire inconsistente quella lì perché avevamo fatto proprio un errore nel traslare il profilo del medico di emergenza territoriale nell'altro allora siamo andati al consiglio di stato quindi l'ultimo livello della giustizia amministrativa alla quale abbiamo detto ma scusate io vorrei poter studiare un diritto allo studio e adesso ve la faccio corta poi magari vi posto anche la sentenza ci siamo divertiti a dire che ci hanno detto no perché la convenzione serve per fare una serie di cose e quindi se uno vuole farne delle altre ha tutto il diritto di cessare la convenzione di licenziarsi e andare a farla a scuola per fare poi l'altra attività che vuole fa e quindi uno può condividere o meno questo principio personalmente mi sono un'idiozia totale questo asset normativo italiano io ho anche quando ho avuto l'occasione provato di cambiarlo ma con una serie di resistenze infinite e quindi io dico ma ragazzi se questa è la normativa bisogna rispettarla pedissequamente perché ovviamente negli ultimi vent'anni evidentemente poi che cosa faccio mi vado a mettere a fare il lavoro di un altro in ospedale altro che domani arriverà e secondo tra l'altro alcuni colleghi purtroppo specializzandi che ogni tanto scrivono robe fuori da ogni grazia di Dio cioè questi cosa pensano che uno gli stia a tenere caldo il posto nell'attesa che questi arrivano e poi gli tiene il posto e glielo lucida no gli lucida la sedia e gli dice prego allora gli si dice guarda assolutamente si lucida la sedia che uno deve avere nell'attività ospedaliera ma viva Dio gli altri che hanno un lavoro che si sono scelti che hanno curato che hanno voluto fare secondo le regole che ci sono dal 1992 dal 1992 evolute nel tempo migliorate e che sono ancora da migliorare su questo la mettiamo però non è che uno può dire abdico posto di lavoro per fare spazio ad altri perché ovviamente se uno può fare A e B e l'altro potrebbe fare solo B non è che uno deve invertire no deve invertire le cose e quindi semplicemente in questo ultimo periodo per esempio in Emilia Romagna si è fissato questo principio io vado a fare il lavoro di un altro solo se l'altro è in difficoltà e solo se ovviamente ho fatto prima il mio lavoro e non posso obbligare uno senza titoli senza facoltà di prendere questo titolo e impiegarlo in attività che sarebbero proprie di un altro profilo questo è un principio anche di correttezza e di rispetto nei confronti di quel profilo perché quel profilo è quello che studia per fare questa cosa qua ma attenzione non si può neanche però pensare come ho letto purtroppo in questi ultimi tempi che uno debba scomparire in un periodo di carenza perché un domani forse qualcuno arriverà tra l'altro spesso questo qualcuno poi non partecipa ai concorsi o nelle aree disagiate non ci vuole andare a lavorare o pensa di essere magari il principe che deve stare solo nel posto hub comodo dove scende fa due passi prende il cappuccino entra a lavorare invece di andare anche come il lavoro dell'emergenza è a 50 60 70 km in mezzo ai monti o nelle valli per andare anche nei posti più desolati a trattare quindi questo è il problema grosso dove le persone non hanno spesso capito i percorsi gli inquadramenti eccetera ma a tutt'oggi per esempio nella regione Emilia Romagna quella decisione del 2000 di avere il personale dipendente di avere l'area dell'emergenza territoriale come un'area dove si reputava utile avere il rapporto d'impiego quella decisione è stata revocata ma non è stata revocata oggi è stata revocata nel 2016 perché a un certo punto dopo 16 anni di deliri negli organici si è dovuto ammettere che quella decisione del 2000 di istituire e la logica del rapporto d'impiego con quelle regole del rapporto d'impiego con quella difficoltà nel trovare personale era insostenibile e quindi nel 2016 è stata cancellata questa cosa ora qual è il problema che è stata cancellata quella cosa ma fino a poco tempo fa i modelli erano ancora quelli relativi a quella visione a quel wishful thinking di cui alcuni si erano innamorati ma solo loro solo loro perché poi portava nel mondo reale una serie di problemi infiniti quotidiani e una serie anche di ingiustizie ingiustizie palesi di colleghi che poi sono andati in pensione con la metà della pensione che aveva preso il collega che lavorava a fianco perché ovviamente i meccanismi di calcolo dei contributi sono diversi le percentuali dei contributi sono diversi e la struttura anche organizzativa dei due contratti di lavoro sono ed erano diverse proprio perché uno doveva avere la possibilità di esercitare liberamente più attività libero professionale che altro quindi come dire questo è il pandemonio esistente ora indipendentemente dalle possibilità di riforme formative e di riforme legislative che ci saranno nei sistemi che prima o poi arriveranno per carità però la questione è ci sono canali diversi i canali formativi e i canali contrattuali sono cose assolutamente distinte oggi vuol dire che quando tu leggi in un profilo formativo che puoi fare A e puoi fare anche B non è obbligatorio che poi il contratto di lavoro che tu sceglierai un domani ti garantisca di fare sempre e comunque sia A che B faccio l'esempio non è che se fai anestesia e reanimazione e impari a fare le partoanalgesie tu poi nella tua carriera professionale pur avendo un contratto anestesista farai la partoanalgesia potresti essere uno che va a fare la rianimazione neurochirurgica potresti essere uno che va a fare l'elissoccorso potresti essere uno che fa magari la partoanalgesia non la fa più così come l'elissoccorso magari hai fatto in scuola di specializzazione anche la parte di elissoccorso ma non è detto che però tu vada a lavorare in un posto di lavoro pur essendo anestesista dove quella parte la farai e la stessa cosa diventa per la parte di medicina emergenza ci sarà qualcuno che farà il pronto soccorso qualcuno che farà il 118 qualcuno che farà entrambe qualcuno che deciderà invece di fare solire parti di fare medicina interna ma attenzione distinguiamo i canali e i pacchetti formativi dagli strumenti contrattuali che peraltro hanno spesso delle visioni molto più ampie e molto più lungimiranti di quello che è solamente il pacchetto formativo della scuola di specializzazione o del corso di formazione x y perché i contratti collettivi disegnano e plasmano una serie di flussi di professionalità che devono andare poi a distribuirsi sul territorio e nella rete ospedaliera per garantire il quanto possibile che ci siano delle omogeneizzazioni e che ci sia una risposta alle necessità cliniche eccetera se noi continuiamo faccio un esempio pratico per spiegarvela questa cosa se noi continuiamo a dire che le cure primarie la medicina di famiglia non è in grado di fare determinate cose è inutile che lo starnazziamo e che per esempio classicamente i medici di pronto soccorso si lamentino del nulla totale su questa cosa perché se poi tu dall'altro lato sei anche quello che magari vuole cercare di tagliare la medicina generale dal contatto con la rete dell'emergenza tramite per esempio i processi formativi dell'emergenza territoriale che sono quelli che prima arrivano perché le persone ovviamente di solito tendono a fare l'emergenza territoriale quando sono giovani quando sono giovani fisicamente prestanti eccetera eccetera ma che quelle conoscenze le possono maturare e le possono un domani trasportare all'interno del mondo delle cure primarie ecco se tu da un lato ti lamenti del non sanno fare questo e ci mandano tutti e dall'altro invece cerchi di boicottare o tagliare invece questo che è un disegno professionale molto più ampio allora fai un grave errore fai un grave errore perché chiaramente stai tagliando delle possibilità di distribuzione delle conoscenze delle abilità e delle professionalità su una rete della quale tu stessi ti lamenti della mancanza di queste abilità e professionalità poi questo si risolve solo con i contratti di lavoro o no? i contratti di lavoro sono uno strumento e sono uno strumento che io lo sapete tutta la vita credo che le convenzioni per i professionisti per le professioni liberali siano lo strumento più adatto pur non essendo il lavoro dipendente una brutta cosa il lavoro dipendente però gestito come è gestito oggi causa molti problemi ed è il motivo per cui ogni giorno centinaia di medici danno forfè lasciano e abbandonano il servizio sanitario nazionale perché c'è un problema enorme nel contratto di lavoro della dirigenza medica ci sono problemi enormi sulla questione dell'incompatibilità sulla questione dei flussi e quindi insomma qua mi fermo spero e vi chiedo un feedback su questo di essere stato sufficientemente chiaro nell'esprimere alcuni concetti alcune visioni eccetera eccetera e di aver in qualche modo disegnato per tutti quelli che non l'avevano magari capito o non lo conoscevano perché poi spesso questa cosa accade non conoscevano quello che è stata l'evoluzione la cosa che francamente oggi mi lascia però perplesso è che davanti a una evidente necessità di cambiamento di un modello integrato che da integrato deve diventare interattivo che non vuol dire disintegrato vuol dire interattivo cioè si devono rimettere sui binari perché il tutti fanno tutto non funziona l'abbiamo visto non funziona sedici anni di prove fa un disastro non ha funzionato mai bellissimo wishful thinking ma non dobbiamo innamorarci di una roba che per quanto bella nell'iperuraneo di Platone non funziona e l'abbiamo provato quindi è evidence based come dire noi dobbiamo per come la vedo io ma per come la vedo io e come la vedono la gran parte dei colleghi associati per esempio a Sdami dobbiamo invece massimizzare i processi formativi l'abilità dei professionisti per svolgere ciascuno al meglio il proprio ruolo e su questo bisogna anche evitare che le diverse categorie professionali all'interno della stessa professione medica vengano come dire messe a questionare perché il sogno di qualcuno a livello organizzativo sia infranto con la dura realtà di una non sostenibilità o addirittura ancora peggio di un bias di conferma che fa dire che siccome tre persone volevano fare quella roba lì allora bisognava farla non funziona non funziona è come dare è come continuare a dare della droga a un drogato non funziona quindi cerchiamo di far funzionare bene i sistemi cerchiamo di passare nel modo più come dire funzionale possibile a riallineare i profili contrattuali con le funzioni riprendere i processi formativi che in molte parti ho visto veramente si sono lasciati perdere negli anni potrei fare degli esempi che eviterò in questo momento di fare e su questo noi soprattutto in Emilia Romagna abbiamo puntato come medici di emergenza territoriale noi stiamo puntando su questo perché crediamo che quella sia la via per professionalizzare per saldare questa figura sul territorio perché viva Dio e qui chiudo io da cittadino non voglio un territorio dove posso trovare 27 medici di continuità assistenziale se ho il raffreddore fermo restando che sono carenti anche quelli ma comunque paradossalmente il sistema in questo momento per come è stato gestito e strutturato ha delle aree in cui se ho il raffreddore qualcuno lo trovo ma se mi schianto in macchina se mi viene un infarto se ho un'attacchia aritmia non ho mezzi di soccorso medicalizzato in quel territorio magari mi deve volare un elicottero dalla provincia vicina o un'auto medica da chilometri chilometri di distanza perché con questa gestione ho massacrato completamente alcune aree territoriali e ultima ma non ultima vedevo Piacenza un video che hanno pubblicato appunto gli infermieri che dicevano ma noi non abbiamo più i medici perché praticamente non ce ne sono più è rimasta solo una macchina a chilometri chilometri di distanza questo non deve accadere cioè il 118 non deve essere il pescante da cui che si massacra per tenere aperti quegli ambulatori che vedono la cacca spruzzo la dico brutta così perché ovviamente per i pazienti veramente critici il flusso c'è il problema ovviamente è processare tutta la marea di piccole urgenze eccetera ma nella visione che noi riteniamo opportuna prima si pensa all'emergenza poi si pensa all'urgenza seria non temporizzabile non differibile diciamo così e poi si pensa anche a tutto il resto quando c'è tempo ma non possiamo avere un sistema di emergenza urgenza che dà la priorità alla caviglia storta rispetto al politraumatismo per strada e questo purtroppo in alcune aree è accaduto dove si sono dovuti sopprimere mezzi di soccorso medicalizzato dove si sono smembrate delle equip che erano avanzate veramente con medico infermiere perché bisognava tenere il medico a guardare che cosa la bassa intensità la bassa criticità non funziona così questa non è la nostra visione lo diciamo chiaro e tondo e quindi come dire spero di essere stato chiaro mi aspetto qualche feedback nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate e cosa come dire come la vedete voi ecco sono curioso di sapere anche come la vedete voi se concordate o meno mettete un like al video condividetelo se lo ritenete opportuno è un po' lungo sono 40 minuti di pippone qualcuno magari sarà costretto a guardarselo tutto e ci aggiorniamo alla prossima